Hoi cagli di tutti in saccarezza cari, io sono Genius39 E ci sono anch'io, Stone Hoi cagli di tutti in saccarezza cari, io sono Genius39 Oggi siamo qui con questo nuovo video Oggi è mercoledì e sarebbe dovuto uscire la Stone News Craft che aveva registrato Stone Però non è riuscito né a editarla né tantomeno a caricarla quindi E quindi sono qui in questo video stupido perché Volevo cercare dei giochi stupidi Ok, io scrivendo giochi stupidi ho trovato questo The Stupidity Test Ma quanto siete stupidi, vi ritenete intelligenti senza nemmeno esservi messi alla prova? Dimostrate le vostre capacità cimentandovi in questo nuovo simpaticissimo test di stupidità E rispondendo esattamente a tutte le domande se ne siete capaci Buon divertimento e soprattutto buona fortuna per la vostra prova Ok, andiamo al gioco Click here to begin Allora iniziamo Quale era il colore della parola? Blu Qua blu E questo qua verde Which of these has nothing in common with the world that you just saw? Ehm Blu Blu E questo Red Orange Allora La quest Genius may have its limitation by my stupidity it's not Ma cosa? Il mio genio non ha limitazioni ma la mia ossidità No Ma veramente io continuo a farlo finché non lo batto sto gioco Click here to begin Questo è blu Questo qua è verde non mi trolli Questo qua Ah ok Era verde Quale di questi? Figura più piccolo arancione Che in realtà è blu perché ha scritto così Quindi questo E no Posta mi trolla mi trolla Allora blu Verde Questo qua era Questo Si ok E poi questo allora Che cazzo? Quale di questi è andato più veloce? Ma io che cazzo ne so? Boh Questo Basta Il quadrato arancione Vai Allora che cazzo devo fare qui? Ehm Quadrato più cerchio uguale 5 Triangolo meno cerchio uguale 2 Quadrato più triangolo uguale? Aspetta Qua devo fare una cosa strana Se questo meno questo fa 2 E questo qua Questo qua è un 3 Perché se questo qua No non fa 2 Questo E meno questo che fa 2 Che Perché devo fare matematica? Oddio Veramente Da scervellati Da scervellati Ho visto veramente Quadrato più cerchio Fa 5 E ok Quindi Potrebbe essere 3 e 2 Probabilmente Questo potrebbe essere 5 e questo 3 Questo potrebbe essere 2 e questo qua quindi 5 E verrebbe 7 Ed è giusto Attenzione I ragionamenti Attenzione E questa invece Oddio Come faccio a indovinarla? Non me lo ricordo mica Comunque io dico 5 No Se non è 5 sarà 3 E infatti è questo Qual è lo Che cazzo Qual è l'opposto di l'est? Penso sia Most Infatti Cosa c'è dopo l'oceano? La costa Si Cost Metti cost Metti cost Che devo cliccare Cost Ok Cosa metti nel toast? Il bread Dov'è il bread? Toast Ecco I am 30% stupid Ok Prima o poi Riusciremo a batterlo Cosa metti nel toast? Bost Roast Toast E questo E il bread Ecco lo sapevo io Quale di questi È un drink Cioè una bevanda di mucca Che viene dalla mucca È il latte Perché? Bread E adesso mettiamo Acqua Mettiamo acqua Allora se non è latte E infatti Ok qua che cazzo Che devo fare? Li posso trascinare? No? Che cosa devo farci? Allora intanto L'arancione fa Ui Sale qui Ed è L'arancione Ho vinto Più almeno All'uomo Che cazzo c'entra questo? Ma cosa il Wong? Ma lo saprò io Ah infatti Stava scherzando I am Zero Forse Non so come 6% Stupido Wow Sono passato Ce l'ho fatta Dopo 3000 tentativi Ok Andiamo avanti Cerco un altro giochino Stupido Ok ragazzi Ho trovato questo Gioco Steal ways to die Modi stupidi Per morire E intanto qua Ci stanno Gente Che cavalca Orsi Con dei Delle costruzioni Lego in testa E un pollo Giustamente Un pollo Che vuol dire Eh Fatti sotto Fatti sotto Che ti ammazzo Mamma mia Comunque Vediamo un po' Sto Sto Stupido Non l'ho ancora provato Non so niente Di sto gioco Che cosa devo fare Devo spegnere Ste cose Potevi pure Dirmelo Non open In box Io l'apro Ma vaffanculo Sono già morto Che devo fare qui Ah Devo scacciare Ok Oh 100 punti Faster Veloce 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 Che devo fare Veloce Ah Devo Devo cliccare di via Ok Comunque questo giochino È molto simile A quelli là Che ci stanno Sul tablet L'ho tagliato La testa Che cazzo dovevo fare Ah Spegnere micce Ok Ok 100 punti Abbiamo tutte e tre le vite Non apriamo Questa volta Non lo apro Non ci casco E lui via lì Ok L'ho sposta Pensavo di essere lo stesso Invece no Vai con 200 punti Perfetto Qua dobbiamo scacciare via i topi Ciao ciao topi 300 punti Faster Qua bisogna andare veloce E scacciare Gli scorpioni Ok Per fortuna Sono stati 4 Qua Ho capito Bisogna fare Ah ho capito Forse Devo spostarli qui Questi Ma Minchia Se sono lenti E ritardati Faster Di nuovo Non mi piace Per niente Sto gioco Vabbè ragazzi Questo gioco Mi fa abbastanza cagare Quindi Per questo video è tutto Se il video vi piaciuto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se volete iscritti Fatemi sapere Se volete altri giochi Stupidi Come questi qua Se ne avete da consigliarmi Consigliatemeli Comunque Se il video vi piaciuto Mettete mi piace Mettete mi piace Alla pagina facebook Trovate in descrizione Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani Con un prossimo video E ricordatevi di fare La domanda per il cuff time Mi raccomando Il video è in descrizione Grazie